iniziamo oggi la settimana santa la salita verso il calvario insieme a gesù è un cammino difficile da percorrere se non si è colmati di pazienza fortezza mitezza e amore gesù ha preso su di sé i nostri pesi e li ha portati fin sotto la croce su cui ha donato la sua vita tutto lo ha fatto per noi viviamo questa settimana con spirito di gratitudine cercando di offrire agli altri l'amore che noi stessi riceviamo dal signore crocefisso siamo oggi invitati a uscire dalle nostre case e a unirci alla processione che proclama con gioia la regalità di cristo se non lo possiamo fare fisicamente facciamolo almeno nello spirito accogliamo gesù e proclamiamo lo re del nostro cuore che il trono preferito dal salvatore più di ogni altro trono al mondo qui vuole regnare con sapienza e amore gesù vogliamo accompagnarti nella tua entrata gerusalemme vogliamo gettare davanti ai tuoi piedi i mantelli delle nostre buone azioni e delle nostre sane intenzioni vogliamo seguirti sulla via della passione standoti vicino in ogni momento di questo cammino donaci la forza di maria tua madre per poterti consolare e per saperti offrire conforto nella tua sofferenza ti ringraziamo per ogni goccia di sangue che hai versato per noi ci impegniamo a vivere la nostra vita guidati dalla tua grazia e dal tuo amore come desideri stare accanto a gesù durante la settimana santa quali sofferenze vuoi chiudere dentro le piaghe del messia con quali azioni concrete desideri ringraziare il salvatore per la sua passione morte in croce per te